Sì, questo posto già lo conoscevo, c'ero stato nell'aprile 2012 per fare le visite per poi andare ai giochi olimpici di Londra. Sì, in realtà però questa è la prima volta che ho avuto modo di testare veramente il posto perché mi sto allenando qua, sto qua da lunedì, oltre a fare la mattina di testa con la federazione, il pomeriggio ho modo di provare le strutture, la piscina, le piscine, le palestre, la mensa, è tutto meraviglioso qua. Sì, ho completato quasi tutti i test, mi rimane solo domani un test per misurare il VO2max che sarebbe l'apporto di ossigeno, è un test aerobico. No, per me è bellissimo stare qua perché mi piace molto allenarmi in mezzo a tanti altri di atleti, di scime diverse, credo che sia molto stimolante e producente per tutti. E in parità è bello perché hai un modo oggettivo per capire qual è il tuo livello in questo momento, quindi la tua preparazione che ti sta portando. Diciamo che ho sofferto come in acqua o come altre volte quando mi alleno, quindi ormai è una cosa che conosco. Sì, l'unica cosa che qua un po' mi manca è la barca e uscire in mare, quindi il resto è tutto perfetto. Grazie Filippo.